Ebbene ragazzi, prima che incominci il video ringrazio Giovanni Limongelli e Sbadabem per avermi salutato nelle loro live Ciao Super Tombo Ciao Super Tombo Sbadabem E bella ragazzi, bentornati sul mio canale Oggi ragazzi, io mi trovo a Fiumicino Airport perché io parto per due settimane e quindi questo canale porterò 5 video più precisamente 4 video e uno shorts perché farò 5 tappe e questa è trovo la prima, ovvero in Belgio a Bruxelles Ok ragazzi, come potete vedere siamo atterrati ad Eindhoven Adesso dobbiamo ritirare i bagagli e noleggiamo una macchina e andremo a Bruxelles Ok ragazzi, ecco l'hotel, si chiama Mario One e Mario V e Mario One Raga, c'è un problema, non potete capire, la camera è doppia, non tripla, io dove cazzo dormo? Raga, c'è un problema, non potete capire, non potete capire, non potete capire, non potete capire Bac одного, boi! C'è i due! C'è i due! C'è i due! C'è i two, come on me, come on Cerco di scordarti ma so che non riuscirò Baby, baby, sarai per sempre il mio primo love Sei rimosta in strada io non ci torno da un po' Vedri neri se giriamo nel retro del Porsche No, non potete capire, non potete capire, non potete capire Eh ok ragazzi Il problema è risolto Ecco qui il mio letto che è stato aggiunto Oh yeah E buongiorno raga Beh ma non me la dà così su Oggi con la maglia Della nazionale di calcio belga Di Kevin De Bruyne Comunque raga Qua Megli Award diventa Media Markt Ok I'm a Barbie girl In the Barbie world Live in plastic It's fantastic Ecco qui Don Quixote Ed ecco ragazzi Questo è lo stadio della nazionale belga Il re baldovino Cari amici del TG104 e del TG1 Oggi siamo qui a Bruxelles davanti al Parlamento Europeo Per un'edizione straordinaria Oh oggi è spogliato Ah raga non potete capire Ho appena visto Pablo Escobar Guarda la ginocchio Allora Aspettate ok ragazzi ho anche cambiato maglia come potete vedere anche questo video è finito iscrivetevi, lasciate il like ma soprattutto attivate la campanella perché nei prossimi giorni usciranno altri video la prima tappa in Belgio è finita domani mattina prenderemo la macchina andremo in un altro stato che non vi voglio spoilerare ma lo vedrete nel prossimo video bella raga